Unità, programma, rispetto. Queste le parole chiave emerse dal tavolo di centrodestra andato in scena ieri sera a Campobasso in vista delle prossime regionali. Unità come condizio sine qua non per confermarsi alla guida della regione. Programma chiaro e condiviso che punti su sanità, lavoro e infrastrutture. Infine rispetto dai vertici nazionali che dovranno tenere conto di quanto deciso dal territorio. Al conclave il coordinatore di Fratelli d'Italia di Sandro ha rivendicato l'aspirazione del partito della Meloni a indicare il candidato presidente. L'ultima parola toccherà a Giorgia la Meloni? Assolutamente sì. Giorgia nonostante abbia tantissimo da fare a livello nazionale e internazionale quando si tratta di scegliere poi i vertici delle regioni e quindi le strategie del partito sicuramente si confronta con gli altri esponenti, gli altri dirigenti del partito. Identica aspirazione c'è la Forza Italia presente con la coordinatrice Anna Elsa Tartaglione e con Aldo Patriciello, europarlamentare forzista e deus ex macchina di Orgoio Molise. Da qualora il tavolo dovesse esprimere discontinuità rispetto all'attuale governatore potrebbe esserci sul tavolo anche il suo nome? Guardi, io penso una cosa, io non ho alcuna intenzione di propormi o di fare qualsiasi passo o fuga in avanti e non vorrei assolutamente, se per qualcuno può essere un motivo di spavento, spaventare nessuno. Le riflessioni saranno fatte all'interno dei partiti, decideranno i vertici nazionali qualora la casella venisse assegnata appunto a Forza Italia così come abbiamo rivendicato e così come oggi è sul tavolo sappiamo che abbiamo un governatore uscente quindi saranno i partiti anche ad esprimersi. Rivendica un posto al sole anche l'Udc al tavolo con Teresio Di Pietro. Candidato presidente tocca a Forza Italia o a Fratelli d'Italia? Una domanda dai 100.000 dollari, a chi tocca e chi non tocca. Allora adesso noi andremo a votare in due regioni importantissime, Lombardia e Lazio. In Lombardia c'è il candidato della Lega, in Lazio c'è il candidato di Fratelli d'Italia. Non dimentichiamo che si è votato solo due mesi fa in Sicilia con un candidato di Forza Italia quindi questa sarebbe la quarta casella di andare ad assegnare e credo che il tavolo nazionale vedrà, comunque ci siamo anche noi dell'area moderale che possiamo rivendicare questa quarta casella. Altra componente centrista e moderata, Popolari per l'Italia, non ha rappresentanza nazionale ma è forte sul territorio e potrebbe pensare in grande auspicando la candidatura per il dopotoma del coordinatore Vincenzo Niro. Lei conosce la macchina regionale a minadito, allora le chiedo Niro presidente è qualcosa di molto lontano dalle sue aspettative attuali oppure è qualcosa che si potrebbe concretizzare? Guardi, le rispondo come mi disse la professoressa al mio esame di maturità quando io dissi professoressa allora com'è andata? E disse Niro guarda l'esperanza è l'ultima a morire. Quello che si verrà fuori lo decideremo in seguito adesso concentriamoci sulla unità della coalizione e laddove questo non dovesse esserci evitiamo fuga in avanti ma lavorare tutti insieme per arrivare a un punto di convergenza condiviso e avvalorato anche dal livello nazionale io credo che porteremo avanti un buon risultato. Se ciò non dovesse accadere, ahimè, ognuno che si sente con i piedi pestati e non gli viene riconosciuta quella pari dignità io credo che è giusto che prenda e faccia altre scelte. Infine la Lega che non ha mai nascosto la necessità di far ripartire il Molise segnando una netta discontinuità con quanto fatto dal governo Toma. Centrotestra decisamente unito come lo è unito al governo. le azioni di governo si stanno già vedendo e stanno portando i loro frutti dopo soli tre mesi di governo. Anche in Molise ha bisogno del centrotestra unito sarà unito e per quanto riguarda la Lega non è una novità e da sempre, lo ha detto Matteo Salvini l'ho ribadito in più occasioni sicuramente una discontinuità rispetto al presidente Toma.